C'era tutta la città oggi, venerdì 19 gennaio, presso la parrocchia di San Giacomo a Rivarolo Canavese, per l'ultimo saluto a Giovanni Provenzano, deceduto per un male incurabile a soli 67 anni. Medico ed ex assessore comunale con la giunta Gaetano, era molto conosciuto e amato in città. Nel suo percorso amministrativo si è occupato di servizi socioassistenziali prima e poi di sport. A salutarlo, oltre a moltissimi cittadini, l'amministrazione Rostagno con il gonfalone della città e alcuni volontari di Croce Rossa in divisa. Ricordato da tutti come un uomo garbato e indulgente, sempre cortese, sorridente e sensibile con tutti. Fin allo scorso agosto fu medico di famiglia convenzionato con Asalto 4. Il direttore generale dell'Asalto 4, Lorenzo Laddissone, ha ricordato con la sua scomparsa all'intenso impegno il grande contributo che ha dato come componente dell'ufficio di coordinamento per le attività distrattuali del distretto di Quarnier, come referente dell'equip dei medici di famiglia di Riverolo, e per la realizzazione dei progetti aziendali del centro di assistenza primaria di Castellamonte e della Casa della Salute di Riverolo. Personalità di spicco, ma anche grande persona dal punto di vista umano, che resterà nel cuore dei riverolesi. Al prossimo episodio